Il tre nove giornale 16, 7, 8, 5, tra l'Italia Fitter, proveniente da Bologna Centrale e diretto a Covezza Terme, 7 ore 19 e 48, è il mattino ordinario 1. Sperma in tre stazioni in centro terrona. Attenzione, autostanati dalla via Gianta. Il tre nove giornale 17, 7, 8, 6, tra l'Italia Fitter, proveniente da Bologna Centrale e diretto a Covezza Terme, 7 ore 19 e 48, è il mattino ordinario 2. Sperma in tre stazioni in centro terrona. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.